GASMARCH PHILLIPS GASMARCH PHILLIPS Ho una missione che voglio farle guidare. Grazie, sergente. Qual è il piano? Neutralizzare gli U-Boot nel Nord Atlantico. Stiamo perdendo la guerra. Dato che Hitler non rispetta le regole, noi ci adegueremo. Io e lei sappiamo bene che non sono persona molto gradita all'amministrazione. Il motivo per cui la trovano persona sgradita è lo stesso per cui io la trovo molto gradita, invece. Se devo farlo, voglio i miei uomini. Non vi piaceranno. Sono tutti... Matti. È meglio che lo siano. È una missione non autorizzata e non approvata. Se falliremo, l'Inghilterra sarà condannata a piegarsi al dominio tedesco. E io ho detto, quello è un cane, non è mia moglie! Mi ha fatto ridere. Lei ha condotto un'operazione ed è irresponsabile. Abbandonate subito la missione. Come? Non riesco a sentirla! Per favore, vada a f***erlo. No! 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 Grazie per la visione